eeeh ciao a tutti ragazzi sono BeyondCamer e oggi siamo tornati con un nuovo video di Paco Opening mi dispiace per voi ma anche per il sottoscritto oggi non c'è desi quindi dovrò fare tutto da solo allora in dettaglia come di consuetudine abbiamo l'Holster Week Offer Premium Agent che ormai sappiamo di cosa si tratta abbiamo il Playlist of the Week e poi abbiamo i due Club Selection che sono quelli del San Paolo e quello del Santos i Club Selection questa settimana ragazzi non li giro non mi interessano assolutamente ma andremo a girare il Premium Agent ovviamente lo faremo come prima pascata gireremo tre volte il Playlist of the Week e al massimo faremo due giri sul pool sinceramente non ho intenzione di spendere di più quindi 50.000 cp e basta quindi signore direi di iniziare subito con la Premium Agent contattiamo la gente ovviamente confermiamo ovviamente scritta MyClub ovvio quanto vi volte dico MyClub siamo in Francia in Francia sto per dire Spagna non so perché Francia Francia ovviamente ovviamente di nuovo argento base 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 va bene vediamo un po vediamo un po' quello ci sta caveci o caveci credo e oviedo va bene tre cagate tre cagate signore andiamo avanti now è arrivato il momento del Playlist of the Week perché voglio girare soltanto il Playlist of the Week signore andiamo sul profilo elenco bersaglie ci stanno sì Argentoni e Palleoro ma signori io spero di beccarmi vabbè con la G7 va benissimo con le Ziyech o Ouedes signori difensore centrale 87 non male nemmeno Ruben Dias per il resto sono tutte cagate ma gli obiettivi fondamentalmente sono tutte le pallanere che ci stanno qua quindi signori torniamo indietro e contattiamo la gente paghiamo ovviamente con cento mani da MyClub e confermiamo scritta MyClub andiamo in Portugale ovviamente palla nera signore dovrebbe essere Ruben Dias Ruben Dias ovviamente Ruben Dias ottima pescata perché ottima pescata andiamo a vedere perché ottima pescata e allora sbadaboom sbadaboom signori abilità difensivo 87 colpo di testa 87 recupero palla 89 velocità 84 potenza di rompente 82 e che cazzo resistenza 81 insomma alto 1 87 colpo di testa marcatore intercettazione disimpegne agrobatico e leader abbiamo iniziato davvero molto 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 bene quindi signori andiamo avanti e passiamo alla seconda pescata con Playlist of the Week signori contattiamo la gente paghiamo con monete MyClub confermiamo and now MyClub and Italy ovviamente Italy Palla Oro si riguardi si riguardi va bene va bene schifo schifo ed 81 per quanto mi riguarda ragazzi questo è allenatore terza e ultima pescata con Playlist of the Week signori abbiamo la gente paghiamo con monete MyClub confermiamo and now MyClub eh 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 ciao ne no ma chi è che gioca in Russia scusate oh e adesso gioca in Russia ah è il locomotive Mosca ma che cazzo ne so io cioè veramente ragazzi non sapevo di sta cosa ignorante del calcio sottoscritto ignorante del calcio ci voleva Ovedes signori difensore centrale 87 frontale extra eh 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 è andata benissimo andata benissimo eh 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 abilità difensiva 90 che pure palla 91 colpo di testo 88 contatto fisico 87 elevazione 86 eh resistenza 82 insomma fisica 6 va benissimo e colpo di test tiro di prima marcatore intercettazione disimpegno acrobatico leader e spirito combattivo sbadaboom 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 andiamo a vedere velocemente il profilo perché comunque sia i giocatori ci stanno eh il problema sono quei 315 agentoni ecco perché non voglio non voglio fare più di due giri su questa gente ma in ogni caso elenca bersagli elenca bersagli si si stanno messi eccetera 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 sono pochi eh sono pochi sono pochi quindi quindi torniamo indietro abbiamo detto soltanto dei giri per un totale di 50.000 GP abbiamo 325.000 325.000 GP quindi ci dovremmo fermare ma oggi non so parlare oggi non so parlare ci dovremmo fermare a 275 giusto? giusto quindi signori portiamo la gente paga con GP e confermiamo i gini sia mai che ce lo dia primo colpo con gli gini proprio i sì vabbè in culo al mondo ci sarà mai pallone almeno skill non skillerà mai esatto non skillerà nacio difensore centrale giusto? no centrocampista centrale al primo che dice eh guarda che centrocampista centrale no c'è nacio difensore centrale raga quindi allora allora andiamo avanti vediamo un po' chi c'è puuuu angelino oh abbiamo trovato il filo di affari il filo di affari ma che cazzo di problemi ha oggi? come un guaggelino dovrebbe essere e gugliene rana tutti e tre ottimi allenatori signori andiamo avanti e ci andiamo a fare l'ultima pescata col grid passers quindi signori contattiamo la gente paghiamo ovviamente con il GP e confermiamo i gini così proprio di prepotenza con enfasi scritto my club con enfasi andiamo in spagna yes 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 fuck 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 schilla però chi arriva? Eder Banega? tu mi farai da allenatore a Ziyech intesi? andiamo avanti oltre a Eder Banega abbiamo signori Barella Barella che per tutti è bugata merda inoltre abbiamo anche Wagner Love però sono curioso di vederlo sto Barella signori si cioè no ni o nirs a me non sembra allora come fa l'argento raga e tanta roba questo a prescindere però insomma va bene va bene gentaglia video corto stai settimana mi piace perché ripeto non voglio spendere troppi gp su questo oggetto qua sul grid passer perché secondo me sono totalmente spregati troppi argenti quindi una percentuale troppo alta io però prima di concludere col video vi ricordo che qui sotto in descrizione troverete il link di Crisabo AmvitarTube Amvgamer74 di PES Italia in barra il nostro gruppo di Facebook quindi gentaglia io mi auguro che il video come al saluto vi sia piaciuto con il video lasciate un bel pollicione in su e a commentare alla prossima ciao